Si avvicina per tutti il momento di fare il vaccino anti-Covid. Si sta esaurendo infatti la prima fase dedicata alla vaccinazione del personale sanitario e tra poco, compatibilmente con la consegna delle dosi da parte delle aziende farmaceutiche, inizierà la vaccinazione di massa, incominciando dagli anziani, che in molti casi non sembrano però disporre delle necessarie e chiare informazioni. Però io non lo faccio, perché mi hanno detto di non farlo, perché io ho fatto l'antinfluenzale e mi va bene così. Le vaccinazioni le ho fatte un casino. Una volta non ti dicevano niente, vorrei una scuola, ti vaccinavano e via che andavi. Adesso non capisco tutte queste polemiche. Qui parlano tutti, no? E tu senti talmente tante campane che tu non riesci ad avere un'idea di quello che è la cosa giusta, no? No, non sono tranquilla. Infatti io forse non lo farò, perché non garantiscono niente. In mezzo a tante voci, quel che sembra mancare è un'indicazione chiara e comprensibile a tutti, soprattutto a chi per età e fragilità guarda con maggiore preoccupazione al vaccino. La vaccinazione con gli attuali vaccini, quelli che si susseguiranno, sono assolutamente indicate, direi soprattutto, per le persone più fragili, per le persone più avanti con l'età, che sono quelle che pagano il prezzo maggiore, piccoli effetti collaterali assolutamente irrisori. Vedremo nel futuro la durata, ma riteniamo che la vaccinazione dia una copertura superiore a sei mesi.